Buonasera, ben trovati a Primo Siter Pares, appuntamento del mercoledì, Gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Questa sera è una puntata un po' particolare, diversa dalle solite, voi sapete che in questa trasmissione abbiamo anzi spesso politici, personaggi che seguono ovviamente l'amministrazione comunale e regionale, invece questa sera abbiamo voluto dedicare questa trasmissione a degli atleti straordinari che hanno onorato l'Italia alle Olimpiadi a Tokyo, hanno fatto il record di medaglie e noi abbiamo portato degli atleti veneti ovviamente in questa trasmissione per parlare con loro delle loro esperienze, delle loro avventure, di tutto quello che hanno fatto, dunque sarà una puntata davvero indimenticabile. Io inizio già a presentare gli ospiti, inizio con il presidente del CIP Veneto, il Comitato Italiano Parolimpico Ruggero Vinai, buonasera Presidente, grazie di essere con noi. Saluto Andrea Borgato, tennis da tavolo, buonasera Andrea. Saluto Nicola Carabba, consigliere nazionale della FISPES, grazie di essere con noi e saluto Francesco Betella del Nuoto, grazie a tutti i tre di essere qui. Andiamo dall'altra parte, saluto Chiara Nardo, canottaggio, grazie di essere con noi. Saluto, trovo subito Giovanni Izzo, vicepresidente Cip Veneto, grazie. E grazie a Federica Fornasiero, tecnico nazionale di nuoto. Grazie a tutti di essere qui, sarà una bella puntata, va bene Presidente, come state? Tutto bene? Lei dall'alto che dirige tutta? Credo che sarà una bella serata, una bella trasmissione perché abbiamo delle persone importanti, molto interessanti che nello sport paralimpico hanno fatto grandi cose. Tra poco avremo anche Pancalli collegato, quindi completeremo tutto quello che è successo a Tokyo con 69 medaglie, molti ori, insomma tratteremo tutto quanto. Però prima andiamo a vedere il servizio d'apertura e poi andremo a capire qualcosa di più con gli ospiti. La tenacia, gli sforzi, l'applicazione e la dedizione, tutte qualità che in uno sportivo di primissimo livello sono imprescindibili ma che diventano ancora più importanti quando di atleti paralimpici si parla. Perché in questo caso non c'è solo il record da inseguire o il traguardo da tagliare, c'è la consapevolezza di dover vincere i propri limiti e non solo contro il tempo e la fatica. Per i propri limiti che la vita sembra porre come ostacoli ma che un vero atleta è capace di trasformare in trampolini di lancio. E nella trionfale estate dello sport italiano non poteva proprio mancare una paralimpiade storica in tutto e per tutto. L'Italia ha chiuso nona nel medagliere con ben 69 medaglie, 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi. Un'edizione rinviata e sofferta che ha provato la preparazione degli atleti di una delegazione italiana presentatasi a Tokyo con ben 115 rappresentanti, mai così tanti ai blocchi di partenza, e nella quale il ha fatto la parte del leone con 17 atleti iscritti e ben 26 medaglie conquistate, 4 ori, 13 argenti e 9 bronzi. Tra le tante stelle che hanno brillato, due su tutte si sono prese la scena, Stefano Raimondi e l'inossidabile Bebe Vio, sempre e costantemente accompagnate da quella magica colonna sonora. Il notatore veronese è tornato da Tokyo con la bellezza di 7 medaglie al collo, un oro nei 100 rana, 4 argenti nei 100 dorso e farfalla, nella staffetta 4% stile nei 200 misti e i due bronzi nei 100 stile e nella staffetta 4% misti. La trevigiana Bebe Vio invece, solo dopo i successi giapponesi, ha raccontato le terribili vicissitudini che l'avevano accompagnata nel suo percorso di avvicinamento alla Paralimpiade, un'infezione che rischiava di costarle la vita in primavera e che dopo mesi travagliati dal punto di vista fisico l'ha costretta a rinunciare all'ultimo minuto alla prova di sciabola, ma non le ha impedito di confermare la sua medaglia d'oro nel fioretto individuale, seguita dall'argento nella prova a squadre. Antonio Fantin, lo squalo di Bibione, con i suoi 20 anni si è giudicato invece ben 5 medaglie. Il bronzo nella staffetta, 3 argenti nei 400 stile individuali e nelle due staffette 4x100 e 4x50 e soprattutto l'oro olimpico con record del mondo nei 100 metri a stile libero. E veniamo quindi ai padovani. Luigi Beggiato, 23 anni, di Voe Uganio, si è portato a casa due argenti nei 100 stile e nella staffetta e il bronzo nei 50 metri stile. Per l'inossidabile Francesco Bettella invece due medaglie di bronzo nei 100 e nei 50 d'orso categoria S1. Francesco Travisani, di Correzzola, si è portato a casa invece il terzo gradino del podio nel tiro con l'arco di coppia, nella specialità del ricurvo Mixed Team Open. In cetta di medaglie l'ha fatta anche la nuotatrice veronese Xenia Palazzo. Un oro nella staffetta 4%, un argento nei 200 misti e due bronzi nei 50 e 400 stile libero. Senza dimenticare quindi il bronzo della veronese Michela Brunelli nel tennis tavolo, in coppia con la friulana Giada Rossi. Menzione d'onore infine per la trevigiana Francesca Porcellato. Con l'argento nella cronometro di paraciclismo su strada, per l'atleta di Castelfranco fanno un totale di 14 medaglie in carriera ottenute in tre discipline diverse, ciclismo, atletica e sci di fondo su 11 paralimpiadi disputate tra estive e invernali. Bica male Vilnai, eh? Presidente Ciprovereto, bica male, dico questo, questi numeri sono numeri che creano e danno soddisfazione a un Presidente e a tutto l'ambiente di quello che voi state facendo che davvero ha dell'incredibile. È davvero una grande soddisfazione perché mai avremmo pensato che dopo due anni di virus, di pandemia, fossimo ecco non solo avere 17 veneti e 8 tecnici a Tokyo, ma poi i risultati anche così eccezionali. Come è già stato detto, 26 medaglie su 69 è davvero un grande risultato. Ma siamo contenti per molti altri aspetti, motivi di grande soddisfazione perché una diretta da luna di notte fino a tarda serata abbiamo potuto fino a tarda mattina? No, no, da luna di notte, la mattina, fino a tarda serata abbiamo assistito una diretta prima su Rai 2 e poi su sulla canale Sport e abbiamo potuto assistere tutti gli italiani hanno potuto vedere davvero le gesta dei nostri atleti nazionali. Davvero grandi soddisfazioni ma anche perché sono stati anche finalmente, i commentatori hanno commentato davvero in maniera eccellente direi cose che fino a qualche anno fa questo non succedeva. Quelli che commentavano insomma molte volte succedeva in passato che erano imbarazzati, non sapevano cosa dire. Oggi è un po' diverso, la vita ha fatto sì in modo che Ruggero Vinnai una volta sai c'era quella barriera che si è tolta quasi non dico completamente però insomma abbastanza non è più davvero come una volta insomma mi sembra che questo sia chiaro. Ma credo che questo sia sicuramente la cultura è cresciuta tantissimo su questo aspetto ma credo sia anche merito proprio dello sport paralimpico che per i suoi risultati, per i messaggi che i nostri atleti, la federazione e il comitato in primis hanno saputo trasmettere e realizzare per sviluppare lo sport paralimpico. Ecco, chiedo proprio a Nicola Carabba, questi atleti che fanno questo sport partono ovviamente da un'andica, devono avere una tenazza, un carattere, una volontà davvero che è superiore alla persona normale e che poi viene dimostrata quando fanno la gara, quando partecipano, indipendentemente poi della medaglia o no? Eh assolutamente sì, io in tanti anni dirigente sportivo ho visto crescere tantissimi atleti e lo sport sicuramente forgia un carattere ma se di partenza non sei già forte non si ottiene nulla, quindi già comunque atleti con disabilità fisica per approcciarsi allo sport hanno comunque dimostrato di aver superato delle problematiche non indifferenti, il fatto di mettersi in gioco con lo sport sicuramente fortifica il carattere e il connubio delle cose li porta ad avere ottimi risultati, il fatto di ottenere o meno la medaglia è soggettivo, dipende dalle situazioni, dipende da moltissime cose, però solo il fatto di comunque mettersi in gioco e fare dello sport fa capire che la persona ha superato i problemi e gli atteggiamenti, magari gli stereotipi della disabilità che ti porterebbero a essere chiusi in te stesso e quindi hanno la capacità di gettarsi nella mischia e affrontare una sfida oltre la sfida. Sicuramente, Borgato prima ho visto le immagini, mi sembra di aver visto l'intravisto alle Olimpiadi, è stata una bella emozione. Sì, decisamente, questa è stata la mia terza Paralimpiade, ho fatto prima Londra e Rio ed è stato anche questa volta una bella emozione fare la camminata all'interno dello Stadio Olimpico. Il peccato che non ci fosse il pubblico, che c'erano queste condizioni molto restrittive per l'accesso. Ma vi hai visto il mondo, insomma, vi hai visto il mondo, dico. Sì, 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 certo, certo. Quello è stato sicuramente bello, un bel segnale. Dal punto di vista personale il fatto che mancasse il pubblico è stato un po' sopito. L'atmosfera era un po' diversa, era un po' diversa. Beh, Bettella, anche se c'è il pubblico dentro la vasca, non è che sente il rumore del pubblico, no? È vero o no, Bettella? Sto scherzando, ovviamente. Non sentiamo quasi niente, in effetti. Una volta che siamo dentro l'acqua, sparisce tutto quello che c'è attorno. Però sicuramente all'ingresso e soprattutto all'arrivo e durante le premiazioni il pubblico si sente tanto e si è sentito tanto la mancanza quest'anno. Nel periodo che non è stata fatta questa Olimpiadi perché è stata rinviata, cosa avete provato? Eravate un po' amareggiati? Perché tutti noi che la guardavamo, ovviamente, questa Olimpiadi, sia quella paragonica sia l'altra, essendo stata posticipata, tutti eravamo un po', insomma, dispiaceva perché poi certi atleti con un anno in più rendono un po' meno e tant'altro quelli che hanno un'età avanzata. Ecco, come avete passato quell'anno che non si è fatto nulla? Mettela, poi, potete intervenire tutti, è una chiacchierata. Sicuramente i primi mesi della pandemia, quando ancora non si sapeva bene com'era la situazione, c'era un po' di preoccupazione perché l'Olimpiade, un evento così grosso a livello mondiale, era il primo a rischio, quindi abbiamo continuato ad allenarci senza sapere per cosa e quando avremmo potuto fare le gare e poi dopo il rinvio, insomma, avevamo chiaro l'obiettivo, una volta soprattutto che era stata fissata la data e abbiamo proseguito ad allenarci. la cosa non è stata facile perché praticamente dopo il primo lockdown noi abbiamo potuto fortunatamente riprendere a nuotare e non abbiamo mai fatto nessuna pausa fino a quest'estate, quindi da maggio del 2020 fino a settembre abbiamo sempre fatto allenamenti. Quante ore ti alleni di media a settimana o al giorno? Un paio d'ore al giorno. Ogni giorno? Sì, quindi di solito noi facciamo un evento grosso all'anno, quindi ci alleniamo in media 11 mesi consecutivi e a causa del rinvio insomma siamo arrivati a… E tu al podio ci vai sempre? Ma finora diciamo quasi sempre, però è un appuntamento che mi piace mantenere e ci vado volentieri. Perché prima nel sentire l'inno italiano nel servizio d'apertura di Francesco Cochiglia, vi dico la verità, un po' mi sono emozionato, prendo sempre un po' di emozione nel sentire e poi vedere gli atleti che riescono ovviamente a fare quello che ha fatto. E lei, Chiara Nardo, tutto bene? Sì, io tutto bene. Personalmente il rinvio delle Paralimpiadi per me è stata una fortuna perché mi sono avvicinata al canottaggio a fine 2019. Come è nata questa passione per il canottaggio? Io prima guidavo i cavalli da corsa, vengo dal mondo delle corse dei cavalli ed era il mio sport che facevo di professione, quindi ero un atleta professionista e con i cavalli ho vinto più di 734 corse. Quindi abbiamo già nel canottaggio, hanno già messo la legge alle immagini della sua gara, è preso voi. Sì, sì. Eccola qui. Sì. Prego, prego. Mi sono avvicinata al canottà, l'incidente l'ho avuto nel 2015, due anni di riabilitazione diciamo, fra virgolette, per rimettermi un po' in sesto e poi ho conosciuto il mondo dello sport paralimpico, per fortuna. Per fortuna dico perché alla mia età non sono più giovanissima. Non so, non li chiedo l'età perché non è bello, non è elegante, però sembra molto giovane. Ecco, grazie. Non lo faccio per benevolenza, però... Per rimettersi in gioco non è semplicissimo, soprattutto nel mondo del lavoro, venendo appunto da un lavoro che per me era uno sport. E ho conosciuto il canottaggio dopo... Ce ne basta tanto male dopo quell'incidente, glielo chiedo. Sì, perché quella io avevo deciso di vivere così e quella era la mia vita. Io dedicavo i cavalli 365 giorni all'anno, perché quando hai a che fare con gli animali non c'è mai un giorno di riposo. Non era una domanda, aveva l'accordo, ho saputo che non poteva più ritornare. È stato parecchio traumatizzante, anche perché io ho dovuto trasferire tutti i cavalli da un collega, però ho anche deciso di chiudere quella porta in modo drastico. Ha votato pagina insomma. Sì, non sono più entrata in un ipodromo, non sono più andata in scuderia proprio perché volevo guarire. Se no io penso che non ce l'avrei fatta a superare. E adesso ci va qualche volta? Adesso sì, a distanza di sei anni, il cavallo è sempre un amico, a distanza di sei anni riesco a rientrare. Ad affrontare quel... E dirò la verità che mi piacerebbe provare anche il paradressage, che lì avrei proprio a che fare con i cavalli. E perché non puoi intraprendere la cora? Sì, quando voglio diciamo, perché mi sono dedicata proprio ad altri sport. Il canottaggio è nato un po' come fisioterapia, come riabilitazione per rinforzare il tronco, le spalle, la parte sopra, perché io avendo avuto una frattura vertebrale dopo tre operazioni, l'ultima nel 2018, avevo proprio bisogno di rinforzare i muscoli della schiena che comunque mi sono stati recisi per tre volte. E allora ho iniziato così col canottaggio, anche perché mi sembrava uno sport non tanto pericoloso, e alla fine sei a contatto con l'acqua e se cadi ovviamente non ti puoi fare più di tanto male. Solo che ho iniziato tardi, nel 2019, e così a scopo... Così il rinvio delle Olimpiadi le ha dato una mano? Mi ha dato un anno in più per allenarmi e per preparare questa barca, che è un doppio misto. Io appartengo ad una categoria in cui non c'è il singolo paralimpico olimpico, c'è solo il doppio. Ed essendo il mio compagno di barca di Genova, per farci remare assieme, per preparare questo equipaggio... Dove vi trovate? Come? Ci trovavamo a Piediluco, che è proprio il centro di preparazione paralimpico della Nazionale Italiana, è in Umbria, è un lago che si trova in Umbria. A metà strada, insomma. Ecco, mi trovo, pado a Genova, ci trovavamo lì. Non è proprio, ma la mettiamo così. Sì, ci trovavamo lì, però è stato impegnativo perché due settimane al mese dovevo scendere a Piediluco e allenarmi appunto con la Nazionale. Poi per il resto, tutti gli altri giorni, mi allenavo in singolo alla Canottieri Padova. E quindi adesso quante ore di allenamento alla settimana o al giorno? Allora, adesso sono ancora in fase di riposo. Prima mi allenavo, facevo nove allenamenti settimanali alla Canottieri Padova, vuol dire tutti i giorni più due rientri, nel senso in due giorni alla settimana mi allenavo sia la mattina che il pomeriggio. Invece a Piediluco 13 allenamenti settimanali. Eh, è una bella faticanza, eh? Sì, tanto. A cavallo no, si saliva sopra e faceva il cavallo. Invece a lui, diceva col cavallo io ero la testa e lui il motore e qui invece si è un po' invertita la cosa. Giovanni, il suo vicepresidente del CIP Veneto, beh, è una bella soddisfazione insomma tra il presidente e il viceversario, tutti questi atleti, tutte queste medaglie e soprattutto far vivere delle persone che magari una volta, come diceva prima Ruggero, non si pensava una vita piena di soddisfazione nonostante tutto. Anche voi fate un bel lavoro insomma, eh? Sì, certamente questo è frutto di un duro lavoro portato avanti, non adesso ma negli anni. Durante la pandemia noi ci siamo un po' demoralizzati a dire la verità, perché si è bloccato tutto, si sono bloccati specialmente loro, perché loro che devono andare alle Olimpiadi, alle Olimpiadi, si sono bloccati e allora è stata un po' dura. Poi dopo loro hanno ripreso, ma in maggior parte sono state le piccole società, perché noi ci dobbiamo sempre ricordare che loro sono campioni, ma sono sempre partite dal basso e le piccole società si sono completamente fermate e là abbiamo avuto un po' di difficoltà come farle ripartire, perché poi per loro abbiamo trovato i vari scamottaggi per farli allenare da soli, mentre per le piccole società, che poi è la base per far arrivare i grandi campioni, il ricambio generazionale, perché se non c'è, se non li facciamo i partiti. Ci puoi dire la paura, c'è la faccia fra un raro che non c'è l'attivagro, mille paure. Esatto, esatto, anche perché noi facciamo tante attività, oltre loro le società. E come il Presidente che gioca a boccia adesso perde, ha capito il concetto. Esatto, noi facciamo Open Day, facciamo Campus, la Nardo è una che è venuta dal nostro, uno dei nostri primi Campus ed è arrivata alle Olimpiadi, queste sono grosse soddisfazioni, cioè quello che noi facciamo col Presidente, gli Open Day, sono cose proprio per avvicinare le persone ai primi sport, anche perché noi crediamo che lo sport è terapia. Io sono responsabile delle unità riabilitative di quattro ospedali del Veneto, portiamo gli sport proprio ai primi approcci a uno che ha avuto un trauma fisico e troviamo molte difficoltà perché uno che ha avuto un trauma fisico all'inizio fa fatica ad accettare. Però quando ottiene il risultato è anche delle soddisfazioni. Quando ottiene il risultato, quando incomincia a vedere che anche lui può, anche lui può farcela, cioè gli cambia completamente la vita, è questa è una grossa soddisfazione. Sono perfettamente d'accordo, adesso io non sto qui perché poi dite, e guarda io ho un rapporto con Ruggero Vinnai, allora mi permetto anche non professionalmente di fare qualche battuta in gioco forti perché lo reputo una persona, davvero lo conosco da molti anni, straordinaria, è sempre disponibile, quindi capisco il lavoro che avete fatto e che state facendo proprio perché tutto questo ambiente migliori e sta migliorando notevolmente. E lei come fa ad allenare questi ragazzi Forna Zero? È facile. Facilissimo. Avete sentito che testa vincente che hanno, quando parlano hanno già le idee chiare. Basta, non serve nemmeno allenarli. La motivazione non serve perché c'è già una forte spinta alla base, hanno le idee chiare, adesso ci sono anche gli strumenti perché pionieri come Ruggero hanno dovuto farsi largo tra barriere architettoniche, società o meccanismi che non scorrevano. Adesso, per fortuna, la situazione è in una situazione non ottimale, però buona, nel senso che anche grazie al presidente Pancalli e a tutto il lavoro sul territorio, quando un atleta o nasce o si trova in una situazione di disabilità dovuto ad un incidente, può trovare società sportive, tecnici formati, atleti che hanno già avuto altre esperienze che li possono accompagnare e trovano eventi organizzati di vari livelli, dal livello regionale a quello internazionale, alle Paralimpiadi e ormai... Quanti atleti allena lei in nuoto? Allora, io seguo la nazionale direttamente, negli anni passati ho seguito la Spea Padova. Quindi lei allena anche Betella? Negli anni, in passato ho seguito anche... Come ne ha detto, è duro, è cattivo o si può ragionare insieme a Betella? Beh, ha la mano ferma, ma come deve avere un allenatore... Quindi quando si arrabbia, si arrabbia? Eh sì, quello sì. L'ho vista che è così, ha detto, sembra così sorridente, ma sotto sotto... Che ferina. Diciamo che abbiamo due caratteri molto compatibili, quindi siamo sempre trovati molto bene, nonostante appunto... Adesso stai facendo il gallantuomo, eh? Ma ormai non mi allena più, quindi... Ah, forse, possiamo far tutto quello di ora. Va bene, rimaniamo qui perché andiamo in pubblicità, poi ritroveremo anche il Presidente Pancali, quindi rimette con noi, perché abbiamo tante cose da farvi vedere, tra poco.